Un aperitivo in musica sobrio ed elegante come la città che lo ha ospitato e che ha reso partecipe un pubblico di tutta l'età tra vini abruzzesi e le note del Naked Swing Quartet guidato dal musicista Raffaele Pallozzi. Grande successo per l'evento No Snum Aperitif organizzato sabato sera a Palazzo Corvi dall'Associazione Culturale Smart Arts. Un evento elegante, sobrio e civile per ribadire ancora una volta da uno dei luoghi più nobili dei Peligni, il no più fermo e convinto alla centrale, al metanodotto Snum. E' un nuovo modo di fare cultura e informazione, affermato il presidente dell'Associazione Emanuela Greco, in una dimora storica che parla da sola e che per la prima volta si è trasformata in un luogo di massima espressione della democrazia partecipata. Negli ultimi giorni si susseguono numerose iniziative in città di sensibilizzazione sul tema che vendono protagonisti proprio giovani. La scorsa settimana sono stati liceali del classico artistico e scientifico a organizzare assemblea d'istituto e forum ad hoc per analizzare la vicenda Snum e manifestare la propria contrarietà.